mastica le palle Rompè, Rompè ma non vedi che stava mangiando? c'è una patatina davanti vabbè loro non c'è una patatina quella c'è una masca da base non una patatina c'è una figa gemellata con le grotte di Castellana 9 km di profondità addirittura lo sapete che due anni fa si sono smarriti i tre speleologi nelle grotte? no, no, una figa della signora ripetita palle, palle, palle rosse e gialle palle, palle, palle quantità da quelle storie antiche che Romolo Pirino dopo fondata Roma fondasse un bel casino poiché le bolognesi in Donere non vicine furono preserrato le vergini sappino palle, palle, palle non sono Sabine non sono Sabine manco sono Virgine veramente quant'è il sornello for the first storm non lo dico in inglese sceglierò un ragazzo giovane giovane tu quant'anni c'hai? te nascuta 23 come ti chiami? alza la mano quella con cui operi quella testo ma ve lo dico fino a 25 e la vessarina artiglio notto leno non farti troppe seghe se no diventi scemo e poi obbedia la mamma credendo ad un malocchio non sei invece più seghe ma diventò finocchio palle, palle palle rosse e gialle palle, palle palle in quantità che si è inventata per passare per sentire l'odore del pisello mio questa una cosa vicina vado avanti vado avanti con le dediche signori quell'uovo con gli occhiali furia decinale scegare palle rotte ma fu così che allora facendo una verdura è più da rumè sopra sotto è mora mora se dici i capelli no no se dici i capelli da figa proprio guardate che sarebbe manco una cosa strana allora perché oggi come oggi la maggior parte dei donne è bianca anche ancora primi 2000 le donne non se ne piace uno dei gatti soriani io mi ricordo che riuscivo a capire pure se la donna portava o no le mutante come pochini dalla forfora sulle scarpe e molte attrici in realtà usavano tingersi i peli da figa così nelle scene di nudo non va bene ma l'istintore ci serve ringrazio la pianera ma di romani certo di certo stai sicuro al prossimo attentato te opea nel culo palle 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 rosse cialde palle 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 quantità e pregiudizio direttamente dalla Sicilia minghia Giulio Cesare no Giulio Cesare siciliano senti tu sei contento no quello è stato il più grande dei condottieri romani non ha mai fatto un cazzo in vita sua perché quello cazzo un siciliano che lavora di il maio o mai comunque se lui è Giulio Cesare trovami un centurione romano albergo vai stasera senti ma perché hai scelto questo questo va a palestra non so tu farai il centurione romano guardia personale di Giulio Cesare tu adesso con occhio guardi lui con occhio guardi a me per un bagnace il cazzo se riesce il centurione che il cazzo il cazzo che si il cazzo